ciao ragazzi oggi video veloce con zampa di titti qua ciao titina fatti vedere bella allora volevo assolutamente farvi vedere questa cosa allora io ho visto da Pileo Makeup che aveva ordinato da Sherz queste fotografie questo tipo di fotografie stile polaroid mi piacciono davvero tantissimo tant'è che io stessa avevo comprato una polaroid allora recentemente allora mi arriva già con questo biglietto che fa capire tutto fa capire tutto e niente e già questo lo adoro cioè vabbè detto questo vabbè qua ci dice di mettere l'hashtag in modo tale da condividere sui social il tutto e questa è una delle confezioni che potete andare ad acquistare ce ne sono tre e sono bellissime c'era anche quella tema amour ma io ho preferito questa poi ovviamente tutte le altre volte che andrò a ordinare me prenderò una diversa allora fatto sa che sono cioè stragasata perché mi piacciono un sacco allora tra l'altro ho un codice sconto di 5 euro da darvi vi anticipo questa non è una collaborazione queste me le sono pagate io le ho pagate 18 ho pagato tutto 18 euro però ho pagato di più perché ho voluto stampare 10 foto in più rispetto alla base che hanno loro che è di 35 però aggiunte poi ovviamente le spedizioni che mi sono state scalate perché a mia volta abbiamo un buono sconto di 5 euro che insomma ho utilizzato quindi andiamo a vederle insieme questa è la box carinissima e poi ci sono io che come al solito non riesco ad utilizzare tutto ad utilizzare una sola mano questa praticamente è quello che vi arriva già mi sono esaltata perché ho visto questa qua forma di cuore con alcune mie foto vabbè troverete di foto di tutte di più non fateci caso ecco la cosa bella di queste foto è che potete scrivere sotto quello che volete cioè una frase volete fare un regalo volete regalare alla vostra amica una foto e scrivere sotto qualcosa lo potete fare io ho voluto raccontare la storia del mio coniglietto il mio primo infarto cioè la prima volta che ho pensato che fosse fosse morto ma la qualità è spettacolare questo è silvestrone bellissimo in sta foto cioè la qualità veramente bellissima e vi farò vedere perché c'era una ragazza che mi diceva che lei quando stampava da altri siti questa è la mia nonna quando stampava da altri siti le foto prese da instagram venivano male cioè questo è artù bellissimo io voglio far vedere se la trovo una foto ecco che ho preso da instagram questi sono io e mio marito e questa presa instagram ed è bellissima cioè veramente non è che si vede nessun difetto dietro sono tutte bianche non si vede nessun difetto questa va bene è un po malino un po bruttina nel senso un po sfocata così ma perché era proprio così la foto ma ho voluto farlo lo stesso la mia prima fragola insomma va bene mi sto facendo la carrellata di quelle che ho stampato ma vedete che comunque ognuno ogni foto ha una qualità pazzesca cioè sono proprio belle quindi io non posso fare altro che consigli alvere io starei qua a farvi vedere tutte ma non so quanto possono interessarvi le mie foto ad ogni modo vi lascio scritto qua sotto il codice sconto che è di 5 euro ed è valido per un acquisto di almeno 10 euro quindi va bene niente perché se andate a stampare un set così lo usate come niente perché un set da 35 foto se non sbaglio cosa 15 euro e il codice è sterogu ve lo scrivo comunque sia qua sotto sia sotto nell'info box vi lascio il sito dove andare a stamparle potete collegarvi sia dal computer che dal cellulare attraverso l'applicazione io l'ho fatto tanto che parlo faccio girare due foto intanto dicevo io l'ho prese dalla dall'applicazione ho fatto tutto tramite applicazione perché ho utilizzato le foto che avevo sul telefonino questa sono io quando mi sono sposata questa pure e niente quindi era un video per sostanzialmente dirvi andate e provate perché secondo me ne vale assolutamente la pena io sicuramente adesso farò tutti gli album di fotografie stampate da qua perché ne vale la pena sono belle sono anche di una giusta grandezza non sono proprio piccoline cioè questa è la mia mano sono piccolissime le foto sono anche fatte bene e niente questa è la mia mamma vi lascio con questa foto e vi dico che fatemi sapere se avete ordinato anche voi fatemi sapere se vi è piaciuto e utilizzate il codice sconto così avete 5 euro di sconto un bacione alla prossima ciao